Meno distanti, più uniti. Partecipa alla giornata nazionale di preghiera di domenica 14 giugno 2020. Salmo 29 Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Adorate il Signore con santa magnificenza. La voce del Signore è sulle acque. Il Dio di gloria tuona. Il Signore è sulle grandi acque. La voce del Signore è potente. La voce del Signore è piena di maestà. La voce del Signore rompe i cedri. Il Signore spezza i cedri del Libano. Fa saltellare i monti come vitelli. Il Libano e l'Hermon come giovani bufali. La voce del Signore fa guizzare i fulmini. La voce del Signore fa tremare il deserto. Il Signore fa tremare il deserto di Cades. La voce del Signore fa partorire le cerve e sfronda le selve. E nel suo tempio tutto esclama gloria. Il Signore sedeva sovrano sul diluvio. Anzi, il Signore si è del re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo. Il Signore benedirà il suo popolo dandogli pace. Il Signore si è del re per sempre. Il Signore fa altra situazione. Grazie.